Una strategia contro la criminalità informatica. La messa a punto per la prima volta all'Unione Europea, l'obiettivo di Bruxelles è quello di prevenire gli attacchi informatici, rinforzando la sicurezza tramite l'approvazione di una legge che obbligherà gli stati a designare un'autorità competente in materia. La fiducia dovrebbe essere aumentata non solo tra gli stati, ma anche tra il settore pubblico e quello privato. La strategia che stiamo lanciando stabilisce alcune priorità per migliorare le tecnologie informatiche, ridurre i crimini informatici e stabilire una politica internazionale riguardante Internet all'interno dell'Unione Europea. I settori strategici dei paesi come trasporti, energie e servizi finanziari avranno l'obbligo di adottare procedure per la gestione dei rischi e segnalare tutti gli incidenti informatici di cui sono vittime, ma Bruxelles è convinta che si possa fare di più. Se vogliamo essere credibili negli sforzi che compiamo per lottare contro il crimine informatico, abbiamo bisogno di una legislazione migliore, maggiore risorse e migliore coordinazione. Abbiamo già fatto molti passi in avanti, ma molto altro ci resta da fare. La strategia globale prevede anche lo sviluppo di risorse industriali e tecnologiche e di mezzi di protezione legati alle politiche comuni di sicurezza e difesa, compito non semplice, visti i costi di un simile programma.